Che Blaise Bailey non sia mai riuscito a fare breccia nel cuore degli appassionati degli Iron Maiden non è di certo un mistero. E di questo ha dovuto prendere atto anche Steve Harris, che alla fine del tour di Virtual Eleven si trovò di fatto costretto a venire a patti col nemico, cioè con Bruce Dickinson, il frontman che tutti volevano, il vecchio cantante che aveva lasciato il gruppo nel 1993. E Blaise Bailey non è mai riuscito a raccogliere la sua pesantissima eredità. E io ricordo ancora quando, all'inizio del 1999, girò la notizia che Bruce Dickinson era finalmente tornato all'ovile e non era solo perché con lui era rientrato anche Adrian Smith, grandissimo chitarrista che con il suo genio e le sue atmosfere raffinate è sempre stato il creatore, il forgiatore dello stile chitarristico del gruppo, sin dagli albori per arrivare fino a Seven Zone of Seven Zone. Mi ricordo questa foto che girava con tutto il gruppo al completo, con una bella bottiglia di birra in mano, tutti felici e sorridenti, come se non si fossero mai lasciati. E il bello dei soldi è anche questo. E Yannick Gers, colui che aveva preso il posto di Adrian Smith? Beh, rimase anche lui perché di certo non si poteva mandare via dopo tutti quegli anni di onorato servizio. Quindi dal momento in cui i due transfug erano rientrati all'interno del gruppo, i membri sarebbero stati sei con tre chitarre. Questa formazione è quella che vediamo all'opera ancora adesso. Effettivamente è una grandissima formazione, sono tutti delle macchine da guerra, soprattutto dal vivo. Ci fu un tour celebrativo con i cavalli di battaglia, relativamente all'uscita della raccolta barra videogioco Headhunter, e poi il gruppo si mise al lavoro per realizzare il vero e proprio album della Reunion. Album che uscì alla fine di maggio del 2000, Brave New World. Eh, fu in pratica l'evento metallaro per eccellenza dell'anno 2000. Non potevi essere un metallaro se non avevi comprato e ascoltato Brave New World e gli Iron Maiden. Un disco annunciato come un ritorno alle origini, come un ritorno al classico sound della band. Capace di cancellare tutte le incertezze e i passi falsi dell'era Blaise Bailey. E' vero? E' falso? Beh, secondo me la verità si colloca come sempre nel mezzo, dal momento che nella tracklist definitiva del disco finirono di sicuro tre pezzi che erano stati scritti già durante le session di Virtual Eleven, e cioè The Mercenary, The Nomad e Dream of Mirrors. Pezzi che effettivamente, come mood generale, possono ricordare i pezzi dell'era Blaise. Certo che cantati da Dickinson sono tutta un'altra cosa. Ed è la prova che Steve Harris continuava a scrivere i pezzi pensando all'ugola di Bruce Dickinson. C'è un altro particolare che migliora di molto le cose per questo Brave New World rispetto al recente passato. E non mi riferisco solamente ai dischi dell'era Blaise, ma anche a dischi come No Prayer for the Bang e Fear of the Dark, e cioè la produzione. Questo è il primo disco in cui appare Kevin Shirley, il tanto vituperato e odiato Kevin Shirley, che per quanto lo si possa criticare, comunque ha dato a Brave New World un sound assolutamente cristallino, moderno e in linea con il rock americano. E inoltre si nota anche un ritorno a delle atmosfere molto più raffinate, probabilmente effetto della presenza di Adrian Smith e del suo stile assolutamente unico, cosa che il povero Yannick Gers non ha e non potrà mai avere. Anche la copertina presenta un ritorno al passato dal momento che c'è lo zampino di Derek Riggs che ha realizzato una bellissima immagine di una Londra futuristica con un minacciosissimo Eddie che si staglia nel cielo. Al netto di tutte le dichiarazioni dei diretti interessati che all'epoca invadevano i giornali, come per esempio le affermazioni che Brave New World era il miglior disco di sempre degli Iron Maiden, che era il disco che avrebbero voluto realizzare da Seven Song in poi, che lo avevano registrato praticamente dal vivo in studio e che poi si erano resi conto di aver inciso il disco perfetto e che non c'erano bisogno di aggiustamenti, bisogna comunque ammettere che Brave New World è un gran bel disco, enormemente superiore a quelli che l'hanno preceduto e che di fatto spazza via tutte le incertezze dei dischi realizzati dagli Iron Maiden durante gli anni 90. E forse è proprio il fatto che finalmente gli Iron Maiden potevano usufruire di una produzione come si deve, esterno al gruppo e non quindi realizzata da Steve Harris in prima persona, che sta il successo di questo disco, che poi sarebbe rimasto il migliore dalla riunione in poi. Che gli Iron Maiden fossero tornati lo provava già il primo pezzo, The Wicker Man, con quel riff sparato che poi dava origine a una canzone molto diretta e decisamente riuscita. Ma poi c'erano anche dei pezzoni veramente notevoli, come non si sentivano da tempo. Per esempio la seconda canzone, The Ghost of the Navigator, a me è sempre piaciuta moltissimo e la ritengo uno dei capolavori nascosti dell'ultima parte di carriera degli Iron Maiden. C'è poi una canzone molto orchestrale, melodica, che per certi versi ricorda anche le aperture celtiche di The Clansman, che è Black Brothers, che è stata scritta da Steve Harris in memoria del padre scomparso e che pare Steve Harris avesse cominciato a comporre, a lavorarci sopra, già ai tempi di Virtual Eleven, ma poi l'ha tenuta nel cassetto e l'ha completata solo in seguito. The Fallen Angel è un bel pezzo, che in qualche modo rimanda anche ai lavori più antichi del gruppo, mentre poi il pezzo finale, The Thing Lying Between Love and It, è un episodio abbastanza inusuale in quanto presenta una struttura con aperture decisamente progressive, che non ti aspetteresti sulle prime degli Iron Maiden. Forse l'unico pezzo che non mi è mai convinto del tutto è The Nomad, che è una tipica canzone arabbeggiante o comunque con delle sonorità medio orientali, che si collega proprio all'idea del nomade, del cavaliere, del deserto, che proviene proprio da quelle zone geografiche. Una canzone che purtroppo presenta forse qualche lungaggine di troppo. E poi c'è Out of the Silent Planet, che è una tipica cavalcata maideniana, purtroppo rovinata da un ritornello ripetuto in maniera esagerata. E proprio a questo riguardo mi sento di dire che uno dei problemi di questo disco, o che comunque ne limita la godibilità, è il fatto che i ritornelli sono ripetuti allo sfinimento. Un problema che gli Iron Maiden si porteranno dietro da qui in poi, fino ai nostri giorni. Un problema, quello dei ritornelli ripetuti all'inverosimile, che purtroppo affligge anche la title track, che in realtà è molto carina e si ispira direttamente al romanzo di Aldous Huxley, che noi conosciamo con il titolo di Il Mondo Nuovo. Non sono mai riuscito a capire fino in fondo se le ragioni della riuscita di questo album siano da rintracciare nella produzione abbastanza scintillante, oppure nel fatto che probabilmente il gruppo è riuscito a focalizzare meglio l'idea di canzone, cosa che era venuta un po' a mancare negli ultimi tempi. Perché comunque i difetti ci sono. Alcune canzoni sono un po' prolisse, un po' portate per le lunghe, i ritornelli sono ripetuti all'inverosimile e quindi già in luce ci sono tutti quegli elementi che poi avrebbero inficiato i futuri lavori della band e poi se andiamo a guardare erano problemi presenti anche nei dischi precedenti. Ma forse la risposta a questo interrogativo, cosa ha dato successo a quest'album, è proprio la presenza di Bruce Dickinson. Perché è inutile girarci intorno. Gli Iron Maiden sono Bruce Dickinson e non è possibile immaginarli con la voce di qualcun altro, men che meno con la voce di Blaise Bailey, che quel gruppo non c'entrava assolutamente niente. E di questo si è reso conto anche Steve Harris.